Anche con un po' di convulsione, e ringraziare tutti gli interventi a questo momento che si svolge nella sala dove vengono prese le decisioni. E' facile collocare per una serie di ragioni, ma quando si riesce a centrare gli obiettivi come quello che abbiamo centrato si può essere soddisfatti, perché oltre al completamento della tangenziale di Braipinato, noi a Torino, forse tra i primi in Italia, anche se qualcuno dice che siamo forse i primi, abbiamo istituito un servizio che si chiama Mai Basta. Al completamento della tangenziale Braipinati e partecipi a due grandi interventi che sono raggiunti alla conclusione realizzativa, le passate ferroviarie di Torino e il nuovo sistema ferroviario per l'espansione un po' più all'interno della ganda, proprio perché dobbiamo parlare ormai di concetto europeo dei trasporti.